Prende il via il 15 dicembre la stagione di prosa 2016-2017 di Canusa di Puglia realizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il teatro pubblico pugliese e presentata nel foyer del teatro comunale Raffaele Lembo. 8 gli appuntamenti in programma sino al 30 marzo con i protagonisti della scena italiana ed internazionale. Si tratta di una programmazione ad ampio raggio concepita per andare incontro il più possibile ai gusti variegati del pubblico ha detto il sindaco Ernesto Lasalvia. Si è cercato infatti di alternare il teatro d'autore alla commedia con il significativo inserimento di ben due appuntamenti musicali. Questa rassegna inoltre si interseca con quella amatoriale che si terrà nello stesso periodo e che raddoppierà l'offerta culturale per la città e per i territori limitrofi. Si parte giovedì 15 dicembre appunto con lo spettacolo Tradimenti con Ambra Angiolini e Francesco Scianne e la regia di Michele Placido tratto da una delle più apprezzate opere di Harold Pinter che indaga le dinamiche e il rapporto tra tradito e traditore. Martedì 20 dicembre è la volta del concerto gospel diretto da Denton Wheatley, un concerto dalle atmosfere natalizie di uno dei gruppi più apprezzati della scena gospel internazionale. Poi tutti gli altri spettacoli dopo la pausa festiva.